Musica Bene ragazze e ragazzi, eccoci qua su Persona 5 Royale L'episodio scorso siamo usciti dal palazzo di Okumura Trovando la strada, anzi due episodi fa, sì Trovando la strada per il tesoro Adesso ho portato avanti, diciamo, il nostro rapporto con Maruki Raggiungendo forse il passo prima di portarlo al livello 10 Anche se lui ci deve ovviamente contattare Adesso siamo qua a nemimento per risolvere i compiti in sospeso Dopodiché penso che possiamo, sì, andiamo via Possiamo anche, il bersaglio è vicino Ok, stiamo un po' indietro, forse lo troveremo Finire, prima di finire queste richieste, insomma Una volta fatte queste, mi sa che mando la lettera Adesso, perché mi sento abbastanza sicuro Sto giro Perché sono qua Aspetta Cioè non so, forse livellare Sì, potrei farlo Apriamolo Potrei farlo, ma forse non è necessario sto giro Mi sento abbastanza, appunto, come ho detto, sicuro Che forse ce la potrei fare Abbattere Okumura Comunque poi vediamo Pensiamo una cosa alla volta Ah, devo andare più indietro, ha detto Facciamo una pausa Vabbè, intanto salvo Intanto salvo che non ho salvato Ok Vediamo la panoramica Allora, il nostro uomo è qua Però Aspetta, va a vedere Se io vado più indietro Cosa mi dice Morgana? Ok È qui Allora, cerchiamolo Ah, è subito qua Ok Andiamo, andiamo È l'omba di Akitsu Sembra agitato Bastido che ha cambiato nome E si è rifatto il viso più volte Per sfuggire ai debiti La polizia non lo ciufferà mai Perciò è compito nostro Sì, andiamo Il là di fantasma, eh Visto che siamo tutti fuggitivi Potrei suggerirevi dove nascondervi Ehi, non accetterevo mai l'aiuto di un bastardo come te Ti conviene restituire tutti i soldi che hai rubato agli altri Fate silenzio, perché mai dovrei? Le banche sottraggono sempre denaro a tutti ingiustamente Io mi limito a derubare chi ha derubato per primo Faccio ciò che è giusto Rendo giustizia Non sono d'accordo Tu stai scappando Nascondendo ti dietro un nuovo nome Una nuova faccia Vaga, vaga sì Anche voi celate le vostre identità Sapete una cosa? Sto solo degli ipocriti Vi levererò quelle maschere E scoprirò chi siete veramente Andiamoci dentro Allora Io vivo seguendo i miei desideri Strapperò via le vostre maschere ipotiche E già Makoto Han E noi Abbiamo gli SP Che ci vengono ricaricati E almeno per ora Che comunque le mosse Cioè Costano Diciamo Non in maniera spropositata Secondo me potrebbe essere una buona cosa Comunque Andiamo di atomico L'abbiamo fatto molto Andiamo con Tarunda Ok Facciamo Pseo Andiamo Allora Qua Ne abbiamo volendo Una nuova persona Effettivamente Che non ho ancora usato No Questo Proviamola Danno sacco pesante A un solo nemico Potrei provare Non è né resistente Né debole Però Allora Potrei Potrei Facciamo Bombaccecata Ragazzi Ha fatto Tarunda Quindi andiamo Di fuoco Non ho capito Non ho capito niente Aspetta Ci pensiamo noi Ci pensiamo noi Niente panico Niente panico No Facciamo Pseo Allora Facciamo E già Con questa persona Gli SP ci vengono Recaricati di più Più Del normale Qua Perfetto Adesso facciamo Mediarama Vai A posto Niente panico Abbiamo uno speciale Benissima Facciamolo Bel danno Che è successo Sembra che non abbia fatto nulla Continuiamo con Pseo Qua Proviamo 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 L'atomico Pesante Fa Fa Più La luce Allora Facciamo Freyla Manca Andiamo Di fuoco Attacco Ristabilito Ah Giusto Vero che l'avevo Dato a lei Mettiamo la difesa Porto morale Grande Facciamo Sempre Andiamo di Danno sacro pesante Toglie 100 Eh sì Quasi 200 Qui facciamo Vediamo se funziona Sì Perfetto Perfetto Facciamo Tarunda Ecco Non si ricorda Benissimo Ah facciamo Tecnico Ecco Prendiamo sempre Di Ok Proviamo Amnesia Vediamo se funziona Anche stavolta Sì Lo saprei Ah sì Facciamo Agilava Ah sta gemendo Ok Questo Air Facciamo Raffica A rivoluzione A rivoluzione Nera Aumenta la chance Di critico Ah sì Beh facciamolo Ah di tutti gli alleati Però Ma scusa Il nemico Non è un alleato Cioè Beh di tutti gli alleati Per tre turni Proviamo a farlo lo stesso Per curiosità Mesia nel caso attacco Era mancato Andiamo Pesa ristabilita Giraffica Critico Perfetto Direi che è andato Ottimo Eh quella Persona che abbiamo creato Con quella fusione Non è male Affatto Anzi No non ci credo Ho avuto questo tempo Non ho reso giustizia A nessuno Credo tu abbia capito Veduto questo tempo Sono stato io il cattivo Beh non stavi dicendo Che i laddi fantasma Sono degli ipocriti Ho sbagliato a dirlo Ora ho finalmente Compreso i miei sbagli Grazie a tutti voi Mi orgoglio di me stesso Mi sono impegnato A ingannare il mondo Vivendo solo Per la mia avidità Ho cambiato nomi e volti Ma per la prima volta Siete stati voi A cambiarmi il cuore Ok Dovrai in poi Vivere la tua vita Col cuore sgombo Senza nulla da nascondere Ok Chiesta completata Ottimo E io direi Che possiamo anche Uscire Ok Torniamo all'ingresso Allora Praticamente Siamo A livello 42 Ci potrei provare Facciamo così Allora Adesso Ok Sì Torniamo nel mondo reale Ok 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 Io Vediamo se Salvo Ecco Salvo qua Iarga Ok Sì Ok Allora Giochiamo a qualcosa Possiamo? No Giochiamo a un videogioco Stavo facendo Ah no Questo abbiamo completato Più coraggioso Più gentile Il fascino Ah Questo Questo Fascino Andiamo Iniziamo a giocare Punch Ouch Una palestra Oggi C'è un tipo strano Come va? Oggi sarò io ad allenarti Ascoltami molto attentamente Cominciamo ripassando le mosse di base Quindi prima di tuffarsi in azione vera e propria C'è un livello di allenamento Partiamo dall'ondeggiamento Devi predire gli attacchi avversari E schivarli Adesso schiva il mio attacco Poi contraattacca con un pugno Così Premio Seguendo le frecce mostrate a schermo Entro lo scadere del tempo Quindi premix Ok Ce l'ho fatta Bene Ti muovi bene Ricorda come si fa Ora la Gragnola di colpi Colpisci mi rapidamente Più volte di seguito Un piccoletto come te Deve prediligere gli attacchi rapidi A quelli potenti Mira il mio guanto E colpisci Premix Un numero sufficiente di volte Tento a scadere del tempo Bene ottimo lavoro Ma continua a esercitarti Ondeggia per evitare gli attacchi E poi strutta l'occasione Per sferare una Gragnola di pugni La tua combo d'oro Bene adesso Ondeggia e poi subito Una gragnola di colpi Ci siamo No Eh ho sbagliato Ci stai almeno provando A schivare di nuovo Aspetta Ok Bella schivata Allora serie di colpi Bene Ottimo lavoro Segnadissima forma Spero riesco a ripeterti Anche in combattimento Ok Hai mostrato una passione Davvero notevole Mentre combattevi Carismatico Hai dato veramente tanto Sarai esausto Poi freniamoci qua Va bene Dato un po' il fascino Salito Allora io ho salvato Adesso se Nessuno D'importante Mi incontatta Giorno Hai visto gli ultimi commenti In rete? C'è un sacco di odio Verso Komura E' un mare di aspettative Su di noi Sarà meglio sistemare Questa cosa Prima possibile Dovremmo inviare La lettera di sfida Aspetta un attimo E' proprio dei tempi Tutti tuoi E' un'altra chance Per mettere in mostro Il potere Della di fantasma Non rimandare troppo Infatti oggi ci andiamo Per preoccupare Se Non ci sono impegni Di sorta Ok Ok Mi sa che non c'è nessuno E niente Fai vedere un attimo No Non Secondo me no Non c'è nessuno Quindi Tentiamo Se Dovessi fallire Recarico Dal salvataggio Livello E ci rivediamo Poi allo sconto Praticamente Ora ritrovo Voglio sapere Tutto su estimentale Prima possibile Possiamo inviare Quella lettera Invia la lettera Bene Allora Forza Pensaci tu Aru Ok Devo solo lasciare Questa Nello studio Di mio padre E il tesoro Compaierà Giusto Se si accorge La lettera Di sfida Si Hai timore Nel fare Questo a tuo padre Tutt'olestà Un po' Richiama a te La tua rabbia Essa ti guiderà Sul giusto cammino Quindi mettiamo In atto domani Il piano Esatto Va bene Niente ore piccole Stanotte Allora Cercate di concentrarvi Abbiamo solo Una possibilità Ragazzi Conto su di voi Ok Preparati Posso giocare ancora In questo senso Ok Giochiamo Giochiamo ancora Sì dai Giochiamo Giochiamo Quello Di prima Praticamente Andiamo Iniziamo a giocare Ecco l'avversario Persevera Persevera e scopri Il suo punto debole Come dovremmo fare Aspetta Quando va L'attacco Si scopre Cosa stai correndo A fare Stai cercando di Oh ma certo Sì Sei sulla strada giusta Un Deggio Evita i suoi attacchi No Porca vacca Che stai combinando Accidenti Forte gancio destro Ditto in faccia All'avversario E non lo reggi A terra Riuscirà ad alzarsi Schiacci i covanni Rapidamente per rialzarti Poi faccela Vai vai Sei rialzato Lo spettacolo continua Molto bene Sei riuscito a rialzarti Ora osserva il tuo avversario E scrive i suoi colpi Ho fatto piano stavolta Lo sbidante mette a segno In controattacco Impressionante Gio sta barcollando Bene bene Ora colpisce a raffica Una scarica di puni Fenomenale Gio è al tappeto Di nuovo il conteggio Speriamo non si rialzi 3-4 Oh Gio è in piedi L'hai messo all'angolo Bel gioco di gambe Continua così Ok Ora colpisce a raffica Ottima combinazione Gio va a terra Non rialzarti 10 Gram Gio resta a terra Lo sfidante ha vinto Olè Bell'incontro Non mi aspettavo Niente di meno Dal mio apprendista Ok Sei riuscito a vincere Il primo incontro Per un pelo Hai mostrato Una passione Davvero notevole Mentre combattevi Eh Ok Ok È dato veramente tanto Sarà esausto per oggi Fermiamoci qui Ok Sì sì Adesso Dobbiamo andare al palazzo Va Ok Primo ottobre Mestre Kunikazu Okumura Grande approfittatore Profeta d'avarizia Il tuo successo e la tua fama Grondano del sangue Dei tuoi dipendenti sfruttati E quindi nostra precisa intenzione Indurti a confessare i tuoi crimini Firmato Ace of Heart Devo occuparmene prima che diventi un problema Ho ricevuto una lettera di sfida dai ladifantasma Falla pervenire alla polizia Non farmi ripetere Dalla alla polizia È un ordine Questi criminali mi minacciano La polizia non protege forse i cittadini rispettosi della legge? Non verrò abbattuto È una questione urgente Occupatene subito Devo dirlo agli altri Cosa pensi che succederà Alla Okumura Fuzzi? Beh anche se il CEO Dovesse avere un riservo del quale L'immagine dell'azienda ormai è rovinata Immagino che i loro titoli siano crollati Pensi che Okumura Abbia davvero sfruttato i suoi dipendenti? Ogni piccola voce sul corridoio Diventa virale ultimamente Se fosse tutta una bugia? Cioè se fosse vero Le vittime sarebbero gli impiegati stessi? No, le voci sull'Okumura Fuzzi Erano già ben notte dagli addetti ai lavori Stai correndo con la fantasia E sentito L'incontro sportivo è andato benissimo Il modo in cui hanno ribaltato ogni pronostico Gustavo la vittoria Soprava quasi un film Sì, questa volta hanno giocato in modo incredibile Chissà quanti allenamenti è bello vedere in giro Chissà quanti allenamenti è bello vedere in giro Più persone dall'area sorridente Aspetta, sei davvero andato a vederlo? So cosa intendi però Forse andrò anch'io a fare il tifo Ci siamo? Sì Ha pure capito Quando entriamo in azione? È diverso dagli altri Mostra di avere polso nel consegnare la lettera alla polizia Delle due luna O è certo che il suo cuore non verrà risvegliato O è in combutta con la polizia È strano per me dirlo Ma è probabile sia così Guardate che razza di commenti Abbattetelo la dei fantasma A me basta che la dei fantasma si facciano vedere Lo sbrigatevi Dicono la prima cosa che gli passa per la testa Allora interessa solo che chi ha il potere venga umiliato Ma edizione non è un gioco Mezzi e fini sono rovesciati La nostra rivoluzione è divenuta Spettacolo da prima serata Ma dobbiamo farlo Non possiamo lasciar perdere tutto Considerata l'esistenza del palazzo Il suo desiderio è certamente distorto e perverso Dal senso prima estrippiamo l'arbaccia meglio è E non dimentichiamoci il fidanzato di Aru Non abbiamo alcuna scelta Se non lo facciamo tutto questo sarà stato per nulla Credo anch'io se è meglio muoversi Sentendo parlare mio padre non ho visto alcuno scrupolo in lui Ma Ryuji Haru hanno ragione Quello che dice la gente comincia a preoccuparmi devo dire Ma Okumura potrebbe essere uno dei responsabili dei resti mentali Non possiamo esitare Voglio sapere la verità Ho la sensazione che stia nascondendo qualcosa di grosso Vero e in fondo abbiamo già mandato la lettera di sfida Facciamo come abbiamo sempre fatto Rubiamo il tesoro Allora Io direi Subito Produzione armamenti Ok Avanti Probiamo anche questo Ok Ehi che cos'è? Oh è un UFO Per caso Infibri di cui parlava Skull E questo che stanno costruendo A breve del cantine navale inizierà la sequenza di lancio della SS Utopia La sequenza inizierà dopo il recupero del nucleo principale La SS Utopia Progetto fuga verso Utopia Quindi è di questo che si tratta Mio padre ha detto che sarebbe entrato nel mondo della politica Quindi perfino l'azienda è solo un trampolino da sacrificare per la sua Utopia Momento Se parte Non potremmo chiedergli degli arresti mentali Hai ragione Dobbiamo sbrigarci O dovremmo poter procedere Andiamo Guardate quello Quello è il tesoro Cosa? Sequenza lancio d'emergenza di inattivazione Determinate aree Potrebbero essere sicillate o distrutte Ripeto Sequenza lancio d'emergenza in attivazione Tutto il personale Evacuare immediatamente in un'area sicura Che diavolo Non ho tempo di occuparmi di voi ladri Ora che io esca di scena Potete rimanere qui a disperarvi Mentre esplodete insieme a questa base La vostra fine è giunta Esatta Malefica Non c'è tempo Non c'è tempo Sbrighiamoci Va giù Eh sì Ho visto dove si va Ah c'è il tempo Via via Corri corri Madonna Vai Salve Salve Via Evitiamo tutti Cerchiamo di evitarli Aspetta Eh Qua come passiamo? Che imboscata Non c'è tempo Eh Aspetta Via No mi ha preso Pazzarola La distratto Meno male Dovevamo batterlo Subito Vabbè Ci ho provato Allora Questo Debole allo psico Quindi Veloce 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 Ah Ne è mancato uno Dai Ok Che tempo Un'altra ondata Questo Era debole Allo psico E Riflette L'atomico Ma Quello Era debole Allo Atomico Ok Ok Facciamo così Ok Ancora Tre ondata Non ce l'ho fatta Per perdere tempo Come prima direi Però sto giro Facciamo Così Ok Ok Oh Bene Ok Esperienza Così Extra Curiamoci Ok Ah ma Questo era Per lo Scrigno Porca Ah Devo andare Di qua Ero convintissimo Dovesse andare Di là Ma davvero Evitare battagli inutili È la cosa migliore Da fare E tiriamoci E pensiamo Un'altra strategia Ma no Non abbiamo tempo Dobbiamo passare Su loro Cada Ma usi mai il cervello Se sprecchiamo ora Attra le nostre forze Manderemo in fumo Il piano Basta ragazzi Calmiamoci Joker La decisione Aspetta te Io ti coprirò Comunque le spalle Eh ma Ci beccano sicuri Cioè Via No Eh visto Porca Vabbè Olè Ci hanno danneggiato Un po' Giusto un pochettino Allora Lui era debole Ok L'atomico Non lo so Andiamo Vabbè Mi ha fatto un buon danno Eh E Aspetta Facciamo Risparmiamo Ok Ok Usiamo Lui Ok Noi ci ricarichiamo Gli SP Aruno No Altra andata Lo fanno L'ha fatto apposta Allora Di strategia Di prima Ok Poi facciamo Così Vai Ok Ancora Allora Allora Io direi Così Proprio a caso Merda Fa niente Aspetta Tanto l'esperienza Frega poco Qua Facciamo No 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 Aspetta Qua Si Malissimo E Olè Vabbè Eh Vabbè Ma la fretta La fretta Fammi vedere Dove mi fai rifare Aspetta Dove posso rifare Sì Ah Dalla safe room Allora facciamo Dalla safe room Dai Ci rivediamo Direttamente Qua Allora Cosa sono riuscito A venire qua Prima Ok Ok Dovevo fare così Prima Dovevo fare così Aspetta Un attimo Dai Pappo lì davanti Aspetta Guardalo 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 Vai Ok Eh Qui non mi Non mi trovi Eh Ok Forse ci siamo Uno scrigno Ah lo scrigno di prima L'ho L'ho Aperto Vai Eh Secondo Tentativo Un po' più calmo Ehi Fermati Non ci sfuggirai Là Beh Signor amministratore delegato Ti abbiamo Mi raggiunto Io Mi dispiace Il mio cuore Si è risvegliato Posso dimostrarlo Padre Ma che cavo Stai dicendo Aru Sei sempre stata così Accondiscendente A scuola e fuori Obbedendomi Sempre Sei una persona Ammirevole Ma che gli hai preso Ah si Ricordi Aru Hai pianta di rotto Quando non sono venuto Alle tue prime gare Per via del lavoro È stato allora Che hai smesso di parlarmi Mi hai fatto davvero Mi hai fatto preoccupare davvero Oppure mi hai tenuto testa E sei diventata Una giovane donna indipendente Hai riempito Tuo padre d'orgoglio Te lo ricordi ancora L'ho voluto questo tempo Si ma sta fingendo E' chiaro Sta fingendo In quel periodo Dedicavi tutto te stesso A preparare cibi deliziosi Volevi portare gioia Agli altri Perché sei cambiato? Perdonami Aru Non riuscirei A sopravvivere Se il mio tesoro Venisse rubato Ti imploro Non farlo Guarda che una trappola Una trappola Padre Finiamola qui Aru Eh Ragazza ingenua Cosa? Trionfa sui fallimenti Sempre anche a prezzo Del tradimento Questo è il motto Degli Okomura Spingere in basso Gli altri E parte degli affari Virtue e sentimenti Sono la strada Del fallimento Che felicità può esserci Nell'agire secondo giustizia Ma perdendo la guerra Che felicità Che felicità può esserci Nel profitto ottenuto Schiacciando il cuore Altrui Meglio quello del fallimento Preferisco distruggere gli altri Piuttosto che ivere nella miseria Comunque sia presto farò rotta Verso il reame della politica Il vertice del mondo Utopia Il mio nome verrà inciso Negli annali La scelta è tu Se li abbandoni Potrai unirti a me Su questa nave Rimani e verrai incinerita Insieme alla base Allora Quella è la tua scelta Stolta E voi invece? Non volete sopravvivere? Volete salire a bordo? Tu non sei a tuo agio con gli altri Mi sbaglio Ci stavi spiando quindi Non caverai un ragno dal buco Rimanendo con loro È quello che pensi, vero? Hai perfettamente ragione Consegnali Liberati di loro Per il tuo guadagno personale Ti darò il pulsante Appena decollati Abbiamo un accordo? Ai 10 secondi Il tempo è denaro Ai 10 secondi Si La stradd限 Sai Adesso Mi Rir No tecn tightly Sini Alla irler e Il vostro consiglio è che non dovessi fare un negozio per il negozio! Ho scoperto! 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 Il vostro consiglio è un po' di fare. Il vostro consiglio è avvito! Ma non! Questa è la sua scoperta! La sua scoperta è permesso d'attacco! Non è la sua scoperta! Allora! Allora! Ho scoperto! Ho scoperto! Noi che lo scoperto! È un po' dieremo! Ah, abbiamo mezz'ora Azz, col tempo no però Gettare la spugna Provate a ripeterlo quando avete battuto i soldati scelti della mia società Fede, devo andare velocissimo Andate impiegati, siete le fondamenta su cui costruire la mia vittoria No, miei devoti lavoratori, colpire i bersagli a caso non risolverà il problema Dovete colpirli individualmente, ecco, mirate prima quel nemico Con la squadrina e il rosso Aspetta, il vento, ce l'aveva anche lui Però questo è singolo Porca vacca, fammi vedere Vabbè, fa niente, anche se è singolo Ok Facciamo così Ecco Ecco Eeeh Gli diamo il colpo di grazia Ecco, con lei dai Vediamo Ok Vabbè Vabbè, anche se facciamo così Oh, perfetto Come fate a essere così inutili Dov'è finito il vostro attaccamento all'azienda Vabbè, Haru Vabbè Vabbè Anza, è quella l'immagine cognitiva che mio padre era di me Eh, sì Eh, ragazzi, non riusciatevi condizionare Ricordate Una volta abbattuto a Komura sarà finita Chiudiamola alla svelta Non succederà Non avreste dovuto strutturare la forza della mia azienda Piegati in riga Adoro Altri ancora Aumentando la manodopera si può risolvere qualunque problema E questa è la forza della mia azienda Una felicità basata su sacrifici degli altri non è vera felicità Aspetta Sei credevole allo psico Resiste all'atomico Ah, è anche al fisico, eh, vabbè Però facciamo così Ok Facciamo Così Cambiamo Un bel colpo Io lo farei ancora Questo per finire prima Ma È rimasto lui Guarda Ok Andati là del capo ufficio Vieni qui E occupatene tu Ah Difesa diminuita Aspetta Debole all'atomico Perfetto Perfetto Eh, togliamo fuoco però, eh Aspetta Facciamo così Dammi La fenice Ok Ok Eh, facciamo Aspetta Ok Facciamo questo Anche per dopo Ok Ok Tocca ancora a me Aspetta Bredizione Direttore di sezione Fai sparire Questi Sbruffonceli Tutti i cieli Sta facendo Abbattere Comunque 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 Se opponga la mia visione Verrà stroncato Per dare il giusto esempio Non vi sono falle Nella logica Di mio padre Esattamente Esattamente Ah, lo bisogna colpire Il nemico non appena si presenta All'opportunità Eh, ma io l'avevo potenziata Quindi è normale Praticamente Penso Difesa aumentata Fa vedere Ci sta il fuoco Debole al vento Facciamo Così Ecco Attacco diminuito Resisteva All'atomico E Allo sparo Non si sa Facciamo bomba a cercante Allora Facciamo A tecnico Raffica Ok A me Eh, io Ho Eh, facciamo così Va Ok Eh, non saprei Sono debole al vento Facciamo Facciamo Che non cambiamo E Facciamo Proviamo questo Resista la maledizione Sticca più ufficio Aspetta Facciamo Andando pesante Proviamo questo Resiste Tutto resiste Poi li ho elettrizzati Attenzione E va bene Ok Prende la scossa Prende la scossa Ce l'hanno con lei Ma insomma I minuti di rottaio non riuscite a svolgere un compito così semplice Adesso basta Cambiate il bersaglio La tizza che si spaccia per la mia figlia Allora Andiamo sempre Così Facciamo il tecnico magari Ok Facciamo il tecnico Che facciamo Vai Cavolo loro sono Tosti Perché Sono deboli al vento E basta No cedi il turno E basta Non ho un attacco generale di lento Questo è il fatto Ehm Ehm Ma facciamo così Ok E facciamo rivoluzione Montiamo il critico Ehm Oh Scappa Oh dai Guarda Bene bene Dove pensate di andare? Vedere qualche impiegato sacrificabile non mi tange Posso rimpiazzarlo quando mi pare Hai commesso un grave errore Sto valutando il personale della mia società Che mi chiama? Ancora? Ma quanti Non dice nessuno ancora Eh ma non posso Eliminarli tutti una volta non servirà Sconfiggeteli tutti insieme E poter colpire Okomura Cosa fa? Cosa fa questo? Ehm No aspetta aspetta Diciamo così Vediamo se... No Tarun ho sbagliato a tappo Ehm Cazzo la fretta La fretta non va bene Ehm Diciamo così Andiamo, non so cosa sta facendo Diciamo Andiamo Ok Ok Ehm Userei questo... Aspetta che sto pensando... Eh si No No Non ho nulla di vento Generale Poi ho solo il singolo Caralho Ok Vai vai Tutti a terra Ok Ok Aspetta che che aveva... Lei forse Fa vedere Ecco Diciamo così Ok 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 Il problema appunto è... Cazzarò Sono solo deboli al vento Potrei provare il ghiaccio Ehm Unica cosa che manca Anche il ghiaccio c'è Vabbè Quella è stata fatta in aria Ok Quella è stata fatta in aria Eh Non c'è problema Ok Ehm Ha passato a quell'altro Quella donna violenta Dei capelli scuri Non lascerò che dei miseri laduncoli Osta con la mia Anzi no Il mio successo Mi sono fan La logica di mio padre Sì ma qua Mi sa che stiamo perdendo tempo Ecco una figlia come si deve Un lavoro di cui posso dirmi soddisfatto Mi è venuta in mente una cosa adesso però Aspetta un attimo Va Prima di tutto Eh Ordini No Com'è che era? No forse solo Joker lo può fare Se lo possiamo fare così Aspetta Non mi ricordo neanche se ce l'avevo Ma non penso Ah si ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Vai Ok Ok tocca a lei Mediarama Ok Tocca a lei Facciamo Così un attimo Mi sa che potrei Potrei Dover Rifare la battaglia Questo presentimento Adesso Appena tocca a noi Oh Gruppo Cambia Miaru Con Morgana Mi è venuto in mente adesso Perdonatemi Ma È una funzione Che non me la ricordavo più Troppa roba Va bene Perché lui Mi pare che ce l'aveva Aspetta Aspetta È il vento Quello generico Aspetta È il vento quello generico Aspetta Facciamolo con la vita Stiamo bene Non fa niente Facciamolo ancora Adesso abbiamo la vita piena Aveva Aveva Magarula Esatto Oh Perfetto Adesso Vai con Joker Noi facciamo Garula Facciamo ancora Garula Garula Però Magarula non li toglie tanto C'è anche un lei ovviamente Ok Cambiate il bersaglio Di nuovo Han Sì va bene Va bene Sì sì va bene Sì sì va bene Adesso A un certo punto Eh anche se resistono Però Che cavolo Facciamo Curiamoci Più che altro per lei Ok Magarula Eh vedi non fa molto 100 massimo Facciamolo ancora Facciamolo ancora va Eh vabbè però se scappano sempre Cioè Ciavolo Qua Qua andiamo avanti all'infinito Eh 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 Beh quello sta per morire Non riesco a batterne neanche uno Che non mi danno il tempo Per una volta Per una volta che ero fiducioso Eh Sono rimasto fregato Mi sa che non ce la facciamo in ogni caso Eh Eh Fammi rivedere un attimo Ah non ho provato la luce Effettivamente Pensavo di averla provata La facciamo Facciamo Così Poi facciamo Ehm Così va Tolto niente Praticamente Ok Proviamo la luce Sperando Sia un secondo punto debole No avevamo quell'altro Ok Ma Va a cagare Mizzica Eh vabbè Perso tempo per niente In effetti Abbiamo pure perso Quindi Quindi niente Era destino proprio E vabbè No ci riprovo Ci rivediamo magari qui A questa fase Ovviamente Allora Ragazze e ragazzi Un attimo di Intervallo Perché praticamente A sto giro Ho dovuto Livellare Di brutto Adesso 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 non mi ricordo neanche più A che livello eravamo Durante lo scontro Ma Giusto per farvi capire Che per me sono bastati Tanti tanti giorni Tanti giorni che sto livellando come un matto Adesso siamo A livello A livello Aspetta Statistiche A livello 47 Gli ho tutti a 46 Tranne anche come me a 47 Le persone Sono totalmente cambiate Tutte Sono cambiate tutte Dalla Dalla Battaglia Di due secondi Fa Adesso Praticamente Le mie persone Principali Sono Fino A Qua No Sì No Fino a qua Fino a questa Ecco Queste qua Sono le mie nuove persone Principali Queste qua Invece le ultime tre Diciamo che Si sono arrese Io le ho catturate Ecco Tutto qua Sono Questa 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 E l'ultima che non si è vista Questa Sì Vediamo Vediamo come va Mentre noi ci Rivediamo Alla lotta Con i capi uffici Blu Perché Sto scontro È molto Difficile Più che altro Per due fattori Il primo Il tempo Che ho solo mezz'ora Per battere tutte le varie ondate Che non so quante sono Perché non sono arrivato Fino alla fine Anche se sono andato Un'ondata dopo A quella che voi avete visto Sono arrivato dopo E La seconda cosa È che bisogna battere tutti Simultaneamente E quindi È davvero davvero difficile Ho pensato Di dedicare del tempo Al livellamento Quindi è tutto Spostato di un giorno Il livellamento L'ho fatto però Nei memento Visto che c'è La possibilità Che anzi No È sicuro Non è la possibilità Che ci dà più esperienza Ci dà il 180% In più di esperienza Quindi l'80% In più di esperienza Rispetto al normale Perché ho potenziato Anche in evento Forse di un paio di stelle Rispetto a quando Ci siamo stati noi E niente Quindi adesso ci rivediamo Con queste nuove persone Con questo nuovo livello Al Allo Allo punto Dove io mi ero bloccato Praticamente Lo so Che Durante La lotta Volendo Io posso Cambiare I personaggi Ma abbiate pazienza Questo gioco Ha talmente Tante meccaniche Regole Poi ne subentrano Sempre Di nuove O quasi sempre Insomma Ci sono sempre cose nuove Da imparare Che Non riesco A ricordarmi tutto Quindi lo so Che si possono cambiare i personaggi Infatti Non è la prima volta Che tento Di battere Okumura Ho sostituito Quei miei fallimenti Che voi non avete visto Tipo Aru Makoto Con Morgana Però la situazione Non è cambiata Quindi Adesso iniziamo così Poi vediamo Durante lo scontro Cosa Cosa accade Quindi Ci rivediamo direttamente Nel punto Dove ci siamo bloccati Allora Eccoci qua Nel punto critico Con dei piccoli aggiornamenti Cioè che io sono arrivato Penso alla fine C'era il Robottone Gigante Da battere E spero Che dopo di lui No Ci sia più altro Quindi Allora Facciamo Così Adesso vi faccio vedere La strategia Che alla fine ho attuato Funziona Ma Ma rimane comunque difficile Cioè che ho pensato Ma Che sto attuando Ecco Ma rimane Veramente comunque Difficile Abbiamo detto Alla luce La luce Sì Aspetta Ok Eh Non so quante volte ho tentato Ovvero Ormai Ormai Ho perso il conto Questo Ok Ok Ancora Rimane con poca vita Rimane con poca vita Quindi direi di Far così E facciamo Qui nel sottotiro Allora aspetta un attimo Facciamo così Tanto mi sa che non sarebbe morto Ecco Ecco Al minimo i danni E adesso possiamo Attaccare Esistito Ma luce pesante Ce l'aveva Lui Ok Sì ecco Sì ecco Più che batterli tutti insieme Bisogna batterli In due turni Bisogna batterli Morsi della fame no eh Eh che cavolo Aspetta Che prima Cioè Voi non l'avete visto In uno dei miei tentativi Mi è capitato lo stesso Morsi della fame Ah Sono ancora in fase Madonna Madonna Di staffetta Ehm Allora Facciamo Così Sono in fase Di staffetta Facciamo così Ok Ah Lui non si può È vero Ehm Ehm Eh vabbè cazzo Qua mi è capitato male Porca Quella vacca Allora niente No facciamo così Facciamo Ma alla volta Eh mi è capitato male Ok 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 Lei non sta Lei la curiamo Vabbè No è su Buffer Dove sono i buffer Eccoli Qua sono tutti a terra Io farei Ehm Nuare sottotiro Facciamo un bombacicante Facciamo ancora maps Facciamo ancora maps o Ok 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 Il primo lo riflette Non mancava Ottimo Ottimo Due dovrebbe Con due dovrebbe Sopravvivere Dovrebbe A meno che non mi friggono No ok Boh Benissimo Benissimo Adesso Ok Allora parto io Sì Facciamo Eh Ehm Maledizione Pesante Ok Facciamo Lei Quello che volevo fare prima Ma No Ho sbagliato io Insomma È un po' che ci provo Adesso Sono un po' provato Eh Ehm Ok Ok Vai Adesso infliggiamo il danno massimo Ok 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 Attacchiamo Sì Ok 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 Attacchiamo Perfetto Perfetto È andata Ok Perfetto È andata Ok Adesso c'è questo Sono andato qua L'ho quasi battuto E poi sono morto Il suo braccio destro Il suo braccio destro Allora Come possiamo agire Facciamo una cosa che mi era venuta ed era stata bellissima Facciamo Rivoluzione Aumentiamo le chance di danno critico Poi Facciamo Tarunda Facciamo Mediarama E Guardia del cavolo Ok Aspetta Cosa fa Difesa diminuita Difesa diminuita Vabbè E difesa aumentata supporto morale vai attacco aumentato allora io avevo fatto vediamo se me lo ricordo non mi ricordo forse attacco attacco mortale facciamolo vai critico esatto quello che volevo staffetta facciamo così lui mi sa che non ha punti deboli io l'ho colpito un po' di volte ok ancora lei non ha attacchi pesanti lei cura e psio fa un po' poco facciamo raffica ok se adesso lui esplode quindi mettiamoci tutti in guardia per forza ok 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 abbiamo letto il colpo allora ora io continuerei ad attaccare andiamo di maledizione pesante poi poi estendiamoli malus lei cura facciamo facciamo ehm psio anche se psio vabbè attacco ristabilito allora facciamo riduciamogli la difesa ok 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 lei cura insomma nuire è un po' mezza vita però difesa ah ecco barriera magica innalzata adesso riflette io non l'ho mai attaccato così però mi sa che riflette a meno che potremmo guarda facciamo attacco mortale facciamo facciamo agi ok ok non ce l'ha più ma infatti quello che volevo fare facciamo media rama lei cura sempre è il medico praticamente ok facciamo psio bene ok adesso torno a fare attacchi pesanti la vita ce l'abbiamo tutti facciamo avevamo dei malus no ok intanto me lo scordo aspettiamo facciamo facciamo psio attacco ristabilito attacco ristabilito allora non ho qualcosa aspetta non so perché gli oggetti ne ho tanti cosa che mi difendi ma non penso eh però non saprei dire la sua esplosione cosa di che tipo sia tutte le magie non dirvi non so se è una magia che potrei rischiare eh allora sai cosa facciamo chi è che ha meno vita noir allora lui lo mettiamo in guardia lei in guardia in guardia noir la lasciamo un attimo scoperta ci proviamo la formula maria è intorno a un alleato vediamo la riportiamo in vita no 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 allora diminuiamoli la difesa nominiamo l'attacco oh ha lo speciale devo approfittarne devo approfittarne non posso volevo riportare in vita con lei un'arma vabbè eliminato porca vacca anche lui eh sì eh chi è rimasto ma sì non c'è più nessuno non arriva nessuno perché è infinito i dipendenti ciccio è l'ultimo dei miei sottoposti diamo il colpo di ma subito se le cose stanno così oh madonna Aru te odio di avanzare mostrò il potere della nostra azienda ah quindi c'è lei se io cado da Okumura fuso andare in front tu mi capisci l'azione Aru certo padre bene allora proteggimi anche a costo della tua vita come desideri padre no ma basta cioè hai un'altra più grande questo tizio è fuori di testa i figli non sono burattini da usare a proprio piacimento il bene di mio padre aspetta aspetta no devo fare una cosa assolutamente o lo faccio e no lo faccio fare un altro aspetta aspetta allora facciamo noi facciamo danno maledetto pesante si ma comunque c'è esagerato dai quanti ne devo battere ancora spero sia l'ultimo lei ce l'ho ce l'ho dov'è balsamo vitale allora facciamo media rama ok andiamo di difesa va si cioè è una boss fight esagerata decisamente tutti i punti di vista cioè vabbè ok ha tolto poco effettivamente va bene però secondo me lei vediamo adesso non dico niente attacchiamo a manetta noi attacchiamo a manetta vai di psio ha mancato pure là c'è sono i feri dei miei sogni non ho altra scelta ormai ma è autodistruzione infatti ho delle porte via con te quei mairetti ladri assurdo comunque è disposto persino a sacrificare sua figlia ragazzi abbattiamo la prima che possa autodistruggersi ma Noar quella è non sono più il servire il burattino di mio padre la vera me è qui a combattere si vabbè ma anche lei supporto ci vuole ah ecco grazie devo attaccarla probabilmente con tutto quello che ho ma non ce la facciamo cioè io ci provo secondo me non ce la facciamo guarda per sicurezza io metto lei di qua e no tanto se cade i giochi cadono quindi me la attacchiamo vedi cioè ah però ok stavo peggio nemmeno Ario è riuscito a farli fuori ne ho abbastanza insomma qualcuno venga qui non c'è nessuno padre voglio farla finita spero tu sia pronto anche lui però secondo me guarda secondo me lui è una merdina secondo me hai visto lo sapevo non vale niente tutto quello che ci ha mandato contro mamma mia non ci credo ce l'abbiamo fatta 31.000 8.250 di esperienza 48 47 47 48 an va bene va bene c'è solo di un livello sono salito praticamente vabbè chi ah lui ma non avete nulla resistenza elettrica e tutti i nemici ma direi che non mi interessa fuori a letale danno fisico grave a un nemico potente dopo una staffetta danno fisico grave ah quindi oltre al pesante c'è anche il grave pensavo che il pesante era il massimo va bene lo prendiamo ovviamente allora a un nemico eh questo è un fisico pesante direi che va a sostituire cioè furia a letale va a sostituire fendente verticale sì ok mamma mia adesso non so quanto verrà lungo sto episodio ma è stata durissima durissima alla fine sono solo l'ultimo di una stilpe di falliti sì bravo adesso muore in silenzio contatterò il tuo fidanzato e cancellerò l'offerta di matrimonio come minimo è la fine potrebbe essere la fine per la Okamura Fuz sì sì perdona mi padre padre no non c'è lui dietro ai resti mentali Aratus c'eri tu vero ho speso grandi somme di denaro per far crescere la mia società e schiacciare la concorrenza rispondimi dannazione sei stato tu o no ah ecco ah quindi comunque il mandante era lui pensavo qualcun altro di più elevato non personalmente avevo un contratto io sono richiesto la loro eliminazione richiesto allora c'è c'è veramente un criminale misterioso che si aggira nei palazzi allora è vero che tipo di contratto hai stretto e con chi smetti di frignare e diccelo dannazione perché ora occumura non puoi fermarla beh non possiamo di certo buttare via le nostre vite guarda l'assù abbiamo preso il tuo tesoro c'è un'altra cosa che devi dirci hai visto hai visto la faccia di questo criminale non abbiamo tempo per tirarglielo fuori dovremmo chiederglielo nel mondo reale panther non dovevo portare con noi anche mio padre non preoccuparti non gli succederà nulla noi però finiremo per crepare se non ce ne andiamo si devono affrontare da soli la propria responsabilità me l'hai insegnato tu padre urca la mia utopia era lì chi è ah l'ha ucciso quindi non avrà il risveglio del cuore ce la faremo ne dubito anzi temo sia impossibile contiamo su di te Mona a sto giro mi sa che il padre di Aru avrà qualche problema ho ancora la tachicardia abbiamo fatto un ottimo lavoro sai Morgana sembravi quasi normale quando hai preso il tesoro oh non abbiamo ancora scoperto non abbiamo ancora scoperto la verità sugli arresti mentali però Okumura non è l'esecutore però ha però confermato ad essere almeno il mandante di sicuro sa chi è responsabile eh però non parlerà eh però non parlerà mamma questo è è il tesoro il suo tesoro è un modellino in plastica che c'è che c'è ricordo una cosa che mio padre mi diceva prima che cambiasse diceva che da bambino desiderava tantissimo un modellino ma per quanto lo implorasse mio nonno non glielo comprò mai la tua famiglia potrebbe comprare una migliaia di questi modellini Okumura Foods ha 3 anni ma la Okumura Foods esiste da generazioni ma prima di mio padre era una piccola azienda mio nonno era un uomo buono ma con scarso talento per gli affari prestava denaro a fondo perduto quando mio padre era giovane i creditori erano praticamente di casa ecco perché Okumura era così determinato a raggiungere la sua felicità seppur ha scapito altrui è una roba allucinante ha un valore spaventoso so che è una cosa comune con gli oggetti della collezione però la gente paga così tanto per un giocattolo di plastica tra l'altro quando avverrà il svelo del cuore il preciso non si sa ma presto l'unica cosa che possiamo fare è aspettare e vedere appena il suo cuore sarà risvegliato riusciremo a scoprire il colpevole dei resti mentali e invece no come ve l'ha programmato signore tutto da Okumura ha preso di mira della di fantasma al suo risveglio del cuore abbiamo perso una fonte di denaro ma preferrei non rischiare che si sappia del suo convolgimento Okumura non era comunque adatto al mondo politico doveva stare al suo posto certamente senza indugio signore ho già richiesto che sistemasse la faccenda è tutto concordato un arresto mentale improvviso avverrà al momento giusto ci libereremo sia di un contatto deludente che della di fantasma due piccioni con una fava eh sì perché mo' la gente oddio magari è contento qualcuno è contento che muore muore o comunque si muore penso penso che morirà come tutti gli altri che hanno avuto gli arresti mentali ovviamente però qualcuno sarà d'accordo la maggior parte probabilmente no questa volta ho riflettuto sulle mie azioni continuavo a chiedermi chi fossi se fossi veramente all'altezza degli altri membri del gruppo quanto pare sono un codardo eh va tutto bene forse ti conosco abbastanza da abbastanza ormai non fare il modesto credo mi aggrappassi all'idea di essere umano solo per avere un obiettivo mio no non un obiettivo qualcosa di più grande una ragione per vivere ma siccome ora so che là di fantasma sono a casa mia so anche cosa sono casa mia so anche cosa voglio fare sai che cos'è avere una stanza tutta tua anche prima o poi però tutto ciò che è mio potere per portare al successo da di fantasma in altre parole abbiamo lo stesso obiettivo ora in poi non mi risparmierò più ti comini a impegnarti vieni a non farmi venire rimorsi sento che il mio legame si sta rafforzando va bene va bene baluardo chance di proteggere joker da un attacco fatale ottimo inoltre vorrei che Lady Anne fosse felice non chiedo altro che poterla aiutare a essere felice e non osare dire che un momento me lenso ok viva non resta che attendere i suoi ricordi Okumura e stavolta non sarà una cosa bella non lo sanno ancora grazie a tutti per oggi ragazzi grazie a te sarete certamente esausti vi suggerisco di andare a letto presto ehi dobbiamo parlare della festa di benvenuto di Haru non abbiamo appena detto che dovremmo lasciar riposare lasciarlo a riposare deficiente ti ringrazio per la preoccupazione va tutto bene davvero finché stai bene Haru beh c'è un posto in particolare dove vorresti andare in realtà mi andrebbe di fare due passi al festival scolastico insieme a voi vuol dire il festival scolastico della Shujin devo ammettere che interessa anche a me allora hai deciso questo mi ricorda che non abbiamo ancora deciso l'ospite un ospite tipo una specie di VIP aspetta questo vuol dire che tre candidati potrebbero esci anche la di fantasma che ne dite vogliamo fare una comparsata mi sembra un po' esagerato ti stai facendo prendere decisamente la mano non dire assurdità che idea stupida oh combo quadrupla scusate va bene il programma di tele vita si poi darò un'occhiata do da bere anzi da mangiare una pianta poi direi che salvo e finalmente posso stare tranquillo che abbiamo fatto oh gentilezza altruista attenzione la gentilezza è aumentata da empatico altruista perfetto va bene è stata durissima non so perché l'ha reso veramente così difficile da battere Okumura tutte quelle staffette quelle fasi eccetera per me bastava che uno non ci fosse il tempo e anche To come boss il il robottone più Aru va bene ci sta e più lui che faceva schifo perché mandava avanti gli altri quindi ovviamente aveva avuto uno di vita probabilmente per il resto boh mi sembra tutta una sequenza di scontri inutili e mi ha anche detto che questo boss è il più odiato da tutta la community di Persona 5 i fan di Persona 5 e direi che posso capire il perché decisamente